Ciao a tutti ragazzi, come oggi questo è il mismo video di Ark Survival Lo ho anche installato per PC Mettendolo su PC ho notato che questo è l'anniversario di Ark È il quinto anniversario, guardate Con la gantellina e i due dinosauri Quindi oggi ho deciso di fare, no scordate Un bello speciale dell'anniversario di Ark Survival di Volved, naturalmente Di sicuro avranno aggiornato un sacco di cose Aspetta, base all'anniversario di Ark Non dimmi che troverò dei dinosauri con il cappello Vi prego, ditemi che uno scherzi Ragazzi, non c'è niente, voglio morire Ah, io vi faccio solo e soltanto un momento di dare Che sono anche andato a volte Oh, oh, vabbè Sì, lo so, non sì Non sì, 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 succulite Un, tre Ho ucciso Dino Fosaro perché volevo addomesticarlo Non è che sono morto vero? Sì Ma perché sono morto? Chi mi ha ucciso? Niente, la mia roba è marcita Perché mentre avevo tutto Anche i guanti Ma purtroppo è marcita la mia roba Perché qualcuno mi ha ucciso E non so chi sia No, nessun dinosoro con il cappello, ne? Nulla Ma non c'è manco più il mio falò o sbaglio? No, aspettate Non è... No Non dirmi che Ark con l'aggiornamento Mi ha tolto tutto E già il falò era qui Non ditemi che mi ha tolto tutto Ark C'è gli Engram? No, vi faccio notare che io avevo questi E avevo due di questo e questa Però avevo due maglie e due pantaloni Però aspettate, eh no Grazie Ark Sempre il solito No, aspettate È vero No Ark Mi sa tanto Che non me l'ha salvato Ho anche comprato un'espansione della PS4 Nulla raga Vabbè, io volevo fare questo piccolo e corto speciale Per Ark Che compi Cioè, è già il suo quinto anniversario Abbiamo scambio Ddon... Aspettate C'ho la... In vigore Il massimo è Facciamo la cadente Andrea D Run Banananana Nananana 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 Nanana Aspettate Facciamo la cadente Andrea D Run Bananana Nananana Nananana ok dice sabi ciao ragazzi Andrea Pui